Intanto presento la mia partner stasera, Marina Marina Iniziamo Marina dietro Guardate, non fate subito i perditi Manteniamo la distanza delle sicurezze Qual è la distanza delle sicurezze? Qual è la distanza delle sicurezze? No, no, già ti dorei in social Bravissimo Allora, passo base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bravissimo, dopo la nostra manina sinistra Andiamo a prendere la parte esterna del forzo della data Tieni questo Ok? Già fate? Difficile? Allora, qui si va avanti, attenzione Ok, guarda qua Adesso provate a fare questo Guardate, adesso basso Se ti metti il braccio della dama verso il basso Riuscite? Dai, ragazzi, è semplicissimo, eh? Fate questo, attenzione Nuovi, mani sinistra avanti No, la dama è destra e dopo facciamo questo Uno Nuovi che prendiamo il giudice di dama Sempre con la mano sinistra Sempre con la mano sinistra Sì, grazie Lo portiamo a noi Pidiamo la dama adesso Destra e facciamo questo Le fate sortire la figlia del vostro pantalone Non la figlia però, eh? Non tutto il resto Non la figlia Ok? Lo facciamo? Quindi da qua, adesso, questo è il tasso Carico Preto il tuo, il bel ruolo E poi così va Diciamo? Questo dei contegni sono Uno Tre Quattro Quindi in quattro tempi facciamo questo movimento qua Proviamo Da qua Via E ora Uno Due Tre Quattro Allora Prendiamo tutti voi con la gamba destra puntata Uomini che le donne Cosa mancano le conteggi? Cinque Sei Sette Otto Facciamo il passo E poi La delare Cinque Sei Tre Otto E a quel tempo la donna Dei cinque Sette Sette Otto Ci va La Tra Manina Base Via Uno Due Tres Quattro Cinque Sei Bronti Sette Otto Uno Due Tre Quattro Guardi che ha fatto la vostra nota All'alto Cinque Sei Sette Otto Chiulsi Dai ragazzata Pinto da capo Via Uno Due Tre Quattro Cinque Desse Basso Sette Otto Uno Due Tre Quattro Laterale Cinque Sei Sette Sette Laterale Uno Due Tre Quattro Ciro Cinque Sei Sette Otto Così Lui Da qui Di Desta Parla Passa Dietro Facendo Sette Il Tosso Maggio E Lui Se Ne Va E Se Ne Va Ad Estra Comprociate Il Passo Cioè Uno Due Due Finta Tre Quattro Alla puntata Il Prenda Finta Eh E Quattro Quattro Sette Cosa Lui Se ne va a sinistra E la mano Se ne va a destra Uno Due Tre Quattro Guardiamola Guardiamola Nostra Nama Guardiamo Un bacino Chi può Non lo posso accattare Giro dallo verso l'alto Quindi noi con la mano destra Che andiamo sotto Tidiamo E facciamo fare un giro dallo Portate le mani su Uno Due Tre Quattro Ok Abbiamo le braccia su in alto E da qui scatta il numero Come vedete Cioè Tre Uno E Sette Troviamo Beh Vedi come che hai Voi Lui di una volta senza roma Via Uno Due Tre Quattro Cigli Sette verso il basso E Uno Due Tre Quattro Però muoviti Io mi devo essere tutti fuori così Eh Va bene Dovete stare dietro alla vostra Tata Dovete far sentire La figlia Allora Quattro Tre Sei Sette Manina Basso Basso Uno Due Ciro Dama Tre Chi Sei Sette Sette Oto Quattro 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 Cinco Sette Sette Otto Sette Due Sette 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fanno le direzioni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro da ordinare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giro da ordinare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con il 4, 5, 6, 8, zwangere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 22, 23, 24, 26, 27, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.